A Modane è sorta una nuova diga, è nato un nuovo film. All'attrice Valeria Moriconi giunta dall'Italia porge la mano a Gérard Philippe. A nome della troupe dà il benvenuto Michel Corvu. Si gira una delle scene tecnicamente più difficili della meilleure pair. Già drammatico il confronto tra l'impicciolirsi degli attori sul montacarichi e il giganteggiare dell'alta muraglia. Il film è diretto da Yves Legrè con l'aiuto di Giorgio Zambon. Alla sera una bicchierata festeggia il coronamento della diga e il termine delle riprese. Siamo in un luogo di frontiera dove Italia e Francia hanno imparato ad incontrarsi. In buona compagnia l'attore americano Victor Mathur al centro Incom. Nei teatri Franca Valeri sta girando con Alberto Sordi una scena di piccola posta diretta da Steno. All'uscita dal teatro di Posa Mathur si interessa ai nuovi impianti tecnici e agli apparecchi di registrazione. Si è portato in Italia la propria auto. Conta di soggiornare a lungo tra noi e non come turista. Siamo lieti che l'attrezzatura del nostro centro l'abbia invogliato a lavorare in Italia. Arrivederci Victor! Grazie per la visione!